Non esiste un nucleare sicuro o a bassa produzione di scorie. Esiste un calcolo delle probabilità per cui ogni 100 anni un incidente nucleare è possibile. E questo evidentemente aumenta con il numero delle centrali. Siamo su un treno che va a 300 km all'ora, non sappiamo dove ci sta portando e soprattutto ci siamo accorti che non c'è il macchinista. Io dico no alle centrali nucleari. Ricordati, il 12 giugno vota sì al referendum. Vota sì al referendum. Grazie a tutti.